Ginetta Menchetti riconfermata alla guida del comune di Civitella in Valdichiana che quindi tra i cinque che erano al voto rimane al centro-sinistra, questa roccaforte insomma del centro-sinistra si conferma tale, festeggiamenti durante la notte, insomma una giornata piuttosto intensa anche perché le urne si chiudevano alle 23 e poi appunto era iniziato direttamente lo spoglio. Sì appunto una giornata piena di forte emozioni ma che si è conclusa nel migliore dei modi, ne eravamo abbastanza certi perché in questi mesi in cui abbiamo incontrato tantissimi cittadini, parlato con loro, proposto le nostre idee, i nostri programmi avevamo visto che avevamo una condivisione dietro il programma che andavamo a presentare però l'ultimo verdetto spetta sempre agli elettori quindi fino all'ultimo minuto un po' di fiato sospeso c'è sempre. Siamo usciti con questo bel risultato, una netta riconferma nonostante un callo di affluenza che è stato un po' generale e quindi devo dire grazie non solo a tutti i candidati consiglieri comunali ma grazie a tutti i nostri amici, collaboratori che ci hanno sostenuto in questo mese di duro lavoro. Come dicevamo in campagna elettorale noi ci siamo sempre limitati a presentare il nostro programma, non abbiamo mai sparlato di nessuno e di niente, c'è chi lo ha fatto e è stato giustamente poi hanno deciso gli elettori che erano le persone che avevano titolo, che avevano dimostrato impegno, onestà e trasparenza per poter continuare poi ad amministrare questo territorio e di questo ne siamo veramente fieri. Non posso non chiederle siamo fuori dal silenzio elettorale e dalla par condicio questa situazione del sforamento di Diossina che era stato insomma questo enorme sasso che era stato lanciato anche sulla sua persona perché si parlava volendo anche di omissioni di atti d'ufficio perché se un sindaco non sa comunque potrebbe anche omettere. Ecco c'è una lettera dell'ARPAT. Sì, partiamo da una bassezza di campagna elettorale unica che io non avevo mai visto negli ultimi anni. Comunque quello che io ho sostenuto in tutte le riunioni che non mi risultava era chiaramente la realtà dei fatti. Tanto che venerdì è arrivato proprio il lettera ufficiale dell'ARPAT e tanto per assicurare tutti i cittadini, visto che questo è il mio ruolo in qualità di autorità sanitaria locale, in cui dichiara esplicitamente a chiari note che non vi è stato mai nel 2015, che era il periodo a cui si riferivano il competitor Badì, non ci sono mai stati sforamenti di diossine. Di queste ne ero certo, l'ho sempre sostenuto e finalmente si è espresso anche l'ente competente. Parliamo del futuro. Questo comune si è sempre distinto per il sociale. Sarà questa la direttrice dei prossimi cinque anni? Sì, continuerà ad essere il cittadino, i suoi bisogni, il perno su cui ruoterà l'attività amministrativa di questo comune e accanto ai servizi e alla persona vogliamo continuare a lavorare anche per migliorare il decoro, la qualità di vita dei nostri cittadini da un punto di vista di infrastrutture e di strutture. Quindi saranno imminenti, penso nei famosi primi centigiorni, l'inaugurazione di un nuovissimo centro di cottura presso la Scuola Arcobaleno, come il trasferimento in un nuovo stabile della attuale RSA di Civitella presso Pieve al Topo, costituendo così un polo per anziani. Grazie!